Terra amara anticipazioni del 19 e 20 gennaio. In un'atmosfera tesa, Haqqan e Kadir discutono sul come mettere i bastoni tra le ruote Agli Yaman. Haqqan espone l'idea di impadronirsi di una porzione del denaro del risarcimento assicurativo. Tuttavia, ribadisce che non interverranno fino al ritorno di Demir. Kadir, in disaccordo e con tono sarcastico, suggerisce che proteggeranno Zuleyya. Haqqan replica seccamente che Zuleyya non necessita della loro protezione e si allontana. Kadir, rimasto solo, esprime rabbiosamente il suo intento di appropriarsi delle terre degli Yaman a ogni costo. Successivamente, una furente Betul riconsegna l'auto a Kadir, lamentandosi che sua madre l'abbia venduta senza considerare l'impatto su Zuleyya. Sottolinea inoltre che mentre lei cerca di celare le loro manovre segrete, sua madre ha acquistato un'auto che Kadir ha poi venduto. Kadir, irritato, la incita a confrontarsi con la madre anziché disturbarlo. Betul, restituendogli le chiavi dell'auto, ascolta Kadir che etichetta sua madre come folle e invita a escluderla dai loro affari. Soddisfatti, discutono sul come Zuleyya abbia subito un ingente danno, non solo economico ma anche di reputazione in Europa. Betul osserva che Zuleyya manca di abilità imprenditoriali e che intende portarla al fallimento. Kadir le chiede di informarlo non appena Zuleyya inizierà a vendere i suoi beni, con l'intento di acquistarli tutti. Nel suo ufficio, un agitato Kadir confida a Bedir che Akan ha perso di vista i loro piani originari per Syukurova, trasformandosi in Mehmet Kara e innamorandosi perdutamente di Zuleyya. Sottolinea che un uomo innamorato come Akan potrebbe sfidare il mondo intero, quindi è essenziale agire rapidamente prima che Akan cambi completamente i loro piani, mettendo a rischio i loro progetti sugli Yaman. Pertanto, Kadir sottolinea l'importanza di seguire le sue direttive immediate. Prima di continuare, abbiamo una piccola richiesta. Se non l'hai già fatto, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Questo semplice gesto non ha alcun costo per te, ma è fondamentale per noi. Ti permetterà di essere sempre aggiornata sui nostri ultimi video e ci darai un grande supporto, grazie di cuore. Fiusun, parlando con le sue amiche, viene informata che Fikret e Betul hanno trascorso una notte insieme in hotel. In cambio, Fiusun racconta di Shermin e della valigia contenente 300.000 lire, presumibilmente inviate dall'ex marito di Betul. Tuttavia, serpeggia il sospetto che madre e figlia stiano architettando qualcosa di losco. Quando Betul rientra a casa la sera, trova una Shermin infuriata ad attenderla. Betul tenta di calmarla, affermando di essere consapevole del suo desiderio di avere una macchina e una casa più grande, meritate entrambe, ma insiste sulla necessità di agire con cautela per non destare sospetti in Zuleya. Chiede quindi a Shermin di mantenere un basso profilo per non compromettere i loro piani. Infine, Zuleya convoca il suo avvocato alla villa, incaricandolo di dare il via alla procedura di divorzio da Demir. L'avvocato tenta di farle considerare la situazione più a fondo, ma Zuleya li racconta del caso di Giulia. L'avvocato rivela che Demir gliene aveva parlato quando Giulia era in crisi e che Demir era stato molto turbato. Tuttavia, Zuleya insiste e minaccia di rivolgersi ad un altro legale se lui non procederà come richiesto. Il giorno successivo, Lutfia e Sani si ritrovano insieme quando Lutfia legge su un giornale una lettera aperta di Zuleya. Nella lettera, Zuleya annuncia la sua decisione di divorziare da Demir, dopo aver scoperto le azioni passate di quest'ultimo. La lettera esprime l'urgenza di risolvere la pratica velocemente e amichevolmente per il bene dei bambini. In quel momento, Zuleya arriva e confessa che non poteva più restare con Demir dopo la scoperta dei suoi segreti. Lutfia le risponde che ha piena libertà di decidere, ma suggerisce che sarebbe stato meglio risolvere la situazione internamente, in famiglia. Zuleya contraddice Lutfia, sostenendo che tutti conoscevano le malefatte di Demir e tacevano, mentre lei è determinata ad affrontarle pubblicamente, nonostante lui sia il padre dei suoi figli. Nel frattempo, Kadir e Hakan sono insieme quando leggono l'annuncio di Zuleya sul giornale. Kadir riflette sulla serietà di Zuleya, ma Hakan, indifferente, sostiene che la questione non li riguarda e se ne va. Kadir si unisce a loro e suggerisce che, se Zuleya divorzierà e si risposerà con Hakan, quest'ultimo potrebbe ereditare tutte le ricchezze degli Yaman. Kadir è perplesso su come Zuleya possa divorziare da qualcuno che è scomparso. Anche Fikret è al corrente del divorzio e si interroga sulle intenzioni di Zuleya. L'intero paese di Chukurova è a conoscenza della situazione e la decisione di Zuleya è argomento di discussione tra i cittadini. Gaffur, nel paese, riceve una chiamata dall'impiegato di banca che gli consegna il libretto di risparmio di Sani, dimenticato da lei dopo l'ultimo versamento. Gaffur capisce che Sani non si è resa conto del prelievo fatto e si considera fortunato. Fikret si reca da Zuleya e, dopo essersi riconciliati, vanno insieme in un ristorante all'aperto. Hakan, che li ha notati e seguiti, li osserva da lontano. Fikret rimprovera Zuleya per non averlo aspettato per andare a Izmir e per essere andata con Mehmet. Zuleya spiega che, sconvolta dalla storia su Demir, non poteva rimanere ferma e che Mehmet si è offerto di accompagnarla. Quando Fikret esprime dubbi su Mehmet, Zuleya lo rassicura che Mehmet sta aiutando a recuperare la merce tra Spagna e Portogallo dopo l'affondamento della nave, per spedirla ai loro clienti entro un mese. Fikret rimane scettico, ma Zuleya insiste che starà attenta. Poi conferma che sta divorziando da Demir perché non può più vivere con lui. Contemporaneamente, Hamine va in cucina dove sono presenti Sani, Fadik e Gulten. Tenendo in mano un documento, Hamine annuncia che Atip Pasha ha acquistato un terreno per il loro matrimonio e che suo padre è contento del regalo. Si siede accanto a Sani, lasciandole vicino il documento mentre si interessa al suo budino. Sani nota il foglio e scopre che il contratto di acquisto del terreno è a nome di Ghaffur e Rashid. Sentendo le imprecazioni di Sani, Fadik si avvicina e scopre anch'essa il coinvolgimento del marito con Ghaffur. Ghaffur e Rashid, soddisfatti per essere sfuggiti alla scoperta del loro recente acquisto terriero, si dirigono verso la cucina, dove però si trovano ad affrontare le ire di Sani, Fadik e Gulten. Queste ultime, furiose, iniziano a rimproverarli aspramente. Sani, rivolgendosi a Ghaffur, li rimprovera di aver utilizzato i soldi destinati a Uzum per l'acquisto del terreno, cosa che lui aveva espressamente promesso di non fare. Ghaffur si giustifica affermando che l'investimento porterà a un considerevole profitto. Fadik, a questo punto, interroga il marito sull'origine dei fondi usati per l'acquisto. Quando realizza che Rashid ha venduto l'oro che lei aveva ricevuto come dono, lo assale con rabbia. Rashid tenta di difendersi dicendo che è stato Ghaffur a confonderlo e convincerlo, scatenando una furiosa lite tra i due. La discussione si intensifica e si sposta in giardino, dove continuano a litigare rumorosamente. In questo clima teso compare Shermin, che con tono trionfante rivela una sconvolgente verità. Le terre acquistate da Ghaffur e Rashid sono destinate a diventare inutilizzabili, poiché verrà costruita una diga che le sommergerà. Rivela quindi a Ghaffur di essere caduto nella trappola che lei aveva accuratamente tessuto, guardando poi Sanje e affermando che si tratta della sua vendetta per ciò che Sanje le ha fatto. Sanje, indignata, accusa Ghaffur di essere stato ingannato e deriso da Shermin, cadendo così nella sua trappola. Furiosa e delusa, conclude dicendo a Ghaffur di non osare più tornare a casa. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il continuo» nei commenti e se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!